Cari amici, buongiorno a tutti. Oggi direi che è una gran bella giornata. Allora, facciamo un breve video, unica variante, con questa domanda. Cosa vuole fare e cosa realmente farà? Quindi, cosa vorrebbe fare la persona che a noi interessa nei nostri confronti e cosa invece veramente farà? Cioè, qual è l'intenzione e qual è ciò che veramente farà? Questa è la domanda. Allora, non ho ancora messo le carte, adesso le prendiamo. Intanto vi ricordo che sei sul canale Il Veliero Senza Nome e chi vi parla è Perla. E allora, partiamo. Dunque, prendiamo un mazzo. Oggi vorrei fare... Prendiamo queste, le carte. Allora, intanto vediamo questa persona, quindi pensate alla persona che mi interessa, le intenzioni, cioè cosa vuole fare. Poi vedremo cosa in realtà veramente farà. Quindi vediamo intanto le sue intenzioni nei vostri confronti, quali sono. Quali sono le intenzioni di questa persona nei vostri confronti? Quali sono le intenzioni? Quali sono le intenzioni? Quali sono le intenzioni? Questa è uscita da sola. Anche questa, le prendo entrambe. Allora abbiamo già il due di coppe. Ah no, sono tre. Sono uscite insieme. Ok, allora abbiamo già le prime carte. Dunque, sono proprio volute uscire da sole. Allora abbiamo qui un due di coppe, una regina di coppe e un quattro di spade. Magari, ecco, mettiamole così. Spero che le possiate vedere. Allora, indubbiamente questa persona vi ama, perché abbiamo la regina di coppe e il due di coppe. Voi che state guardando poteste essere del cancro, dello scorpione o dei pesci o per l'ascendente uno di questi segni. Questa persona è indubbio che vi ama. Qui abbiamo un rapporto molto importante, un rapporto di fiamma. Poteste essere fiamme gemelle, anime gemelle. C'è qui una grande connessione tra di voi. I sentimenti qua sono indubbio. Ed è indubbio, secondo me, che anche voi siete molto prese da questa persona. Siete molto innamorate anche voi. Voi siete delle donne molto intuitive. Forse anche voi avete, non so, un stesso senso molto spiccato. Può darsi che anche voi, magari, leggete i tarocchi o conoscete i tarocchi, li state studiando. O comunque siete attratte, magari, o attratte se siete uomini, dall'occulto. È tutto ciò che non si spiega, diciamo, in maniera semplice, no? Siete attratte da tutto ciò che non è visibile, per così dire. E, appunto, siete delle donne molto emotive, molto empatiche. Delle persone, o meno donne che voi siate, che, come possiamo dire, riescono ad arrivare alle cose prima degli altri. Che capite, magari, delle cose delle persone prima di qualunque altro. Magari vedete una persona e già capite con chi avete a che fare. Cioè, avete questo spiccato senso del, cioè, empatico, insomma. Cioè, capite le persone prima ancora che parlino, per così dire. E, magari, se c'è una persona che ha un problema, riuscite già a capire di cosa ha bisogno quella persona. Cioè, avete questa caratteristica, questa capacità, che non hanno tutti, effettivamente. E poi c'è questo quattro di spade. E, chiaramente, qui c'è un desiderio di isolarsi e di riflettere su determinate cose. Quindi, questa persona, probabilmente, sa di amarvi e ha fatto, o sta facendo delle riflessioni. Qui stiamo parlando delle intenzioni. Quindi, questa persona sta riflettendo, probabilmente, sul da farsi con voi. Perché è chiaro che, in questo momento, una decisione finale non l'ha presa. Quindi, vediamo questa persona adesso. Quindi, abbiamo capito che vi ama. Ok? Adesso, vediamo i pensieri che ha. Qualcuno dei pensieri... Qualche cosa che sta pensando questa persona, capire i suoi pensieri. Verso che cosa sono orientati verso di voi. Perché qui abbiamo qualunque tipo di situazione amorosa. Poi, magari, verrà fuori dall'altra carta. Però, voglio vedere i pensieri adesso di questa persona, nei vostri confronti quali sono, più o meno. Riconosco le mie colpe. Quindi, questa persona sa di avervi fatto del male. Non sono libero. Aia! Mi piace perché sei una donna di gran classe. Che abbiamo visto da quelle carte che è molto preso. Se solo potessi tornare indietro. Allora, qui siamo in un rapporto fermo, in questo momento. Può esserci stata una rottura, un freddo, un fermo. Comunque, per adesso, voi, con questa persona, secondo me, non vi state sentendo. Non vi state neanche vedendo, secondo me. Quindi qua, questa persona vi rimpiange, però. Quindi, ancora innamorata di voi, come abbiamo detto, e sta riflettendo. Mi piace perché sei una donna di gran classe. Quindi, vi ama, ma non solo vi ama, ma gli piacete, anche come vi vestite, vi addobbate, vi profumate, vi ponete. Non so, perché magari avete indossato il vestito giusto per ogni occasione. Quindi, se, quando andate fuori a pranzo, vi vestite in un certo modo, a lui piace molto. Piuttosto che, se andate a fare sport, vi vestite in un altro modo. Cioè, avete il giusto look per ogni situazione. Anche come vi ponete, come parlate con le persone. Come vi calate nel personaggio in base alla situazione che c'è da affrontare. Ma abbiamo anche visto qui, quando vi ho parlato della regione di coppe, più o meno come siete fatte. Questa persona dice anche che non è libera. Quindi, effettivamente, la persona, probabilmente, uomo o donna che voi siate, insomma, cucitelo su di voi, è impegnata. O ha un compagno per una relazione ufficiale. E probabilmente potrebbe anche avere dei figli. Qui c'è anche quest'altra carta. Riconosco le mie colpe. Questa persona vi ha fatto del male, sicuramente in passato, e ha capito, riflettendo, che ha sbagliato con voi. Quindi, questi sono i suoi pensieri. Più o meno si può intuire quali sono le sue intenzioni. Poi vedremo che cosa farà. Quindi, vediamo adesso le intenzioni. Che, più o meno, da queste prime carte si evincono. Però, vediamo cosa dicono ancora le carte sulle intenzioni. Diteci qualcosa sulle intenzioni. Ecco qua, abbiamo il cavaliere di spade. Diteci qualcosa sulle intenzioni. Sulle intenzioni. Qualcosa sulle intenzioni. Sulle intenzioni. Ancora, volevo prendere altre due carte. Vediamo se sì, ecco, infatti lo sapevo. L'eremita. Un'altra carta. Ditemi ancora un'altra cosa. Un'altra carta. Un'altra carta. Vorrei un'altra carta. Grazie, un'altra carta. Eccola qua. Bene. Allora, qui abbiamo, ancora, l'eremita. Quindi abbiamo detto che questa persona, in effetti, stava facendo delle riflessioni. Quindi ha riflettuto a lungo, durante quanto tempo che non vi vedete. Adesso possono essere mesi, possono essere giorni, ma questa persona ha molto riflettuto sulla vostra situazione. Mi è andato alla ricerca dei motivi, forse anche, che hanno causato il fermo tra di voi o la rottura. Questa persona, però, è intenzionata adesso a venire verso di voi. Quest'uomo, questo cavaliere che c'è qui, va in avanti e non conosce ostacoli, vuole arrivare alla meta. Quindi questa persona vuole assolutissimamente rifarsi viva con voi. E qui c'è questa carta che riguarda appunto questo volersi allontanare da tutto questo dolore, da questa situazione. Ma in questo momento ci si può allontanare soltanto trovando il rimedio, quindi parlando con voi. Quindi questa persona, per un certo periodo, si è voluta allontanare dalla situazione, ma adesso ha capito che deve tornare da voi e risolvere, proprio parlando con voi, la situazione. Quindi l'intenzione è quella di venire verso di voi e parlarvi. Questa è l'intenzione. Adesso invece vediamo con un altro mazzo quello che realmente farà, cioè quello che lui farà veramente. Perché dall'intenzione al, come si può dire, c'è anche il proverbio, tra il dire e il fare c'è di mezzo e il mare. Quindi veramente, realmente, questa persona adesso cosa farà? Cosa farà la persona? Diteci. Cosa farà la persona realmente? Questa è la prima. Cosa farà la persona realmente verso chi sta guardando? Quale sarà la decisione? Cosa farà realmente la persona? Diteci. Due. Cosa farà la persona veramente? Diteci la persona veramente. Adesso cosa farà? Eccola qua. Bene. Vediamo. Quindi abbiamo un fante di bastoni, la temperanza, e il sette di coppe. Allora, questa persona ancora per un certo periodo di tempo non sceglierà, cioè non farà una scelta. Qui parliamo di scelta perché abbiamo detto che questa persona non è libera, quindi qua parliamo proprio di una scelta. Cioè, nel senso che questa persona non è che verrà da voi e vi dirà, ah, continuiamo a stare insieme così, se parliamo di una relazione extra. Penso che per la maggior parte di voi parliamo di una relazione extra. Quindi, non è che verrà da voi e vi dirà, ma sì, temporeggiamo ancora, perché ancora non sono pronto. Continuiamo come abbiamo sempre fatto. Oppure se magari avete avuto soltanto un flirt e questa persona non si è sentita di iniziare una relazione con voi, magari siete colleghi di lavoro e quant'altro. Quindi, magari vi ha fatto capire che non se la sentiva di iniziare una relazione extra con voi e vi ha lasciate lì, ok? Magari vi ha chiesto di continuare a essere amici o colleghi e basta, no? Oppure se eravate amici vi ha chiesto di rimanere amici perché non se la sentiva o ve l'ha fatto capire. No, qui noi parliamo proprio del fatto che lui per adesso non farà la scelta. Quindi, nelle sue intenzioni abbiamo visto che c'era la voglia di fare questa scelta, quindi di venire verso Dio, ma di fare una scelta. Quindi lui ancora per un certo periodo di tempo la scelta non la farà, quindi passerà ancora del tempo. Tempo in cui questa temperanza, che poi è anche una carta che ti fa capire che le cose non avvengono immediatamente, quindi che passerà del tempo, però la temperanza è anche una carta in cui si capisce che c'è, si cerca di arrivare ad un equilibrio tra le due parti. Quindi, diciamo che ancora per qualche tempo, che può essere qualche giorno o qualche mese, non di più però, voi arriverete a un equilibrio. Questo equilibrio non sarà, cioè non è che voi vi parlerete, ma, diciamo, animicamente, voi arriverete a un certo equilibrio tra di voi. Ci sarà, si verificherà un equilibrio tra di voi, tra come la pensate voi e come la pensa lui. Arriverete a un certo equilibrio, perché comunque il vostro rapporto è stato sempre comunque abbastanza equilibrato, come modo di essere, come modo di pensare tra di voi, perché la pensate allo stesso modo, diciamo, per lo più su tante cose. In un qualche modo è come se voi foste fatti della stessa pasta. Quindi questa temperanza, in questi mesi, in questi giorni che passeranno, farà in modo che ci sia lo stesso equilibrio, nella temperanza si vede una giovane, una persona che mescola un liquido o dell'acqua o quel che l'è, in modo che fa una miscela, in modo che ce ne sia una certa parte, sia da una parte che dall'altra, la stessa parte da una parte e dall'altra, come su una bilancia. Quindi ci sarà questo bilanciamento tra di voi. Una volta che voi avete raggiunto questo bilanciamento dal punto di vista animico, perché arriverei dalla stessa conclusione da soli, voi due. Quindi una volta che voi arriverete a questa conclusione e lo farete entrambi, indipendentemente dal fatto che sia lui o che siate voi, uno di voi due andrà verso l'altro. Può essere lui o potete essere voi, ma uno di voi due andrà verso l'altro, o entrambi magari. E in maniera molto inattesa, ce lo dice questo fante di bastoni, vi rivedrete, cercherete un incontro e in maniera veramente molto inattesa, cioè la decisione verrà presa all'improvviso, probabilmente da questa persona, perché non immagino che sarete voi a fare il primo passo, però probabilmente per la maggior parte dei casi da questa persona, in maniera molto inattesa, all'improvviso questa persona verrà verso di voi, vi chiederà in incontro. Poi da là riprenderete il vostro rapporto, che sarà inizialmente molto, insomma, un po' sulla difensiva tra di voi, però pian piano ritroverete, anche parlandovi, l'equilibrio che avete lasciato. Chiaramente questa persona, nel momento che tornerà da voi, avrà deciso cosa fare con l'altra donna, ma questa carta mi fa pensare che avrà preso proprio la decisione, cioè la decisione finale, quindi di stare con voi, ok? Per la maggior parte dei casi sarà così, almeno queste carte me lo fanno pensare. Poi voi ovviamente lo dovete cuscire su di voi, in base a come vi sentite, in base a quello che pensate, però secondo me sarà così, almeno queste carte me lo fanno pensare. Questo è il mio pensiero in questo momento. Come sempre vi do le lettere del nome e del cognome della persona, allora la D, la B, la M, la C, la A e la E, ok? Bene, spero in qualche modo di avervi dato un aiuto, e noi ci vediamo la prossima volta per un nuovo interessantissimo interattivo. Alla prossima, ciao e buon fine settimana!